Nella trasferta abruzzese in casa del Castelnuovo Vomano, l'Olimpia agnionese ha la ricerca dei primi punti stagionali. I Granata infatti sono gli unici in classifica ancora fermi a zero. Il calendario ha messo subito a dura prova l'undici di Senigallesi, Mattese, Campobasso e Notaresco, tre squadre con grandi obiettivi, la prima perché una matricola, Campobasso e Notaresco invece accomunate dal desiderio di salire di categoria. Quella di domani sarà una sfida importante per gli altomolisani che in settimana hanno vissuto dei cambiamenti in ambito societario. Vincere significherebbe smuovere un po' la classifica che vede l'agnonese ferma a zero ormai da tre turni ma soprattutto sarebbe fondamentale per il morale della squadra. Il Castelnuovo è reduce dal poker in casa dell'Aprilia, un cammino che è iniziato nel migliore dei modi per la matricola del Girone F, due vittorie ed una sconfitta ovvero sei punti in due gare. Un Castelnuovo ambizioso che festeggia per la prima volta l'approdo in serie di dopo tre promozioni consecutive. Una piccola frazione del comune di Castellalto che conta 7500 abitanti in provincia di Teramo e che non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'undici scelto dal tecnico sarà a grandi linee quello visto in opera sette giorni fa contro il Notaresco con importanti novità che saranno svelate la prossima settimana ovvero quella precedente al derby contro il Vasso Girardi. Casacca numero 1 per Landi in difesa Marfella, Litterio, Bilello e Sgambati. Al centro del campo Bagadi e Maniscalchi con Sangare Ali e Cone in appoggio a Cito e Del Gaudio. Al comunale di Castelnuovo Vomano con fischio d'inizio alle ore 15 la gara sarà diretta da Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, assistenti Marco De Simone di Roma 1 e Daniele Tasciotti di Latina.